Grazie 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 Sposta La cosa Arrivano la noce Allora Arrivano lo scrittore e lo porti sopra Sì, sì, lo sopra Mettiamo tutto un po' più bascato Tranquillo Non mi sembra terribile Ok, sposto solo il maschard Guarda Se vuoi Puoi anche non aprire il moschettone Io lo faccio in altra maniera Come lo sai fare è in modo migliore Io di solito lo metto sotto Il moschettone Se no il moschettone può Potrebbe entrare in contatto Hai ragione No, vengo Guarda Io lo faccio così Guarda Io lo faccio così Io lo faccio Quella lassù è l'est delle Gran Giorasse è una massica è una lunga fila che sale è una lunga fila è una lunga fila è una lunga fila francese è una lunga fila è la PH la Guerra Qua c'è una pietra che non voglia molto, ma è stabile. Qua c'è una pietra che sembrava, bisogna riempire il pecorno, da sembrare a tutti voi. Eccolo, allora arrivo. Qua c'è un po' con una mano? Cosa ho portato? Cosa ho portato? Batteria? E' giusto, ma ne ancora meno. Come corregibile da Winley, che sicuramente avete più potenti. Questa è la zona. 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 Questa è la zona.